Si tratta di un parco giochi, un'area che poi mancava al centro storico per la parrocchia, per i ragazzi, per i bambini al centro storico e non solo, anche per chi viene a visitare, perché chi viene a visitare il centro storico non c'era un parco giochi, non c'era un'area addibita come l'abbiamo fatta adesso. L'idea è nata appunto vedendo le difficoltà che c'erano per i bambini e per la parrocchia. In primis voglio, prima di dire come abbiamo fatto, poi i ringraziamenti che vanno a Don Franco che ci ha dato la possibilità perché il terreno è della chiesa, al sindaco che ci ha, tra virgolette, finanziato perché comunque sia le giostrine e tutto quanto ce l'ha data insomma al comune, quindi all'amministrazione comunale. Poi ai ragazzi che ci hanno aiutato, ai ragazzi che hanno lavorato tutti i pomeriggi fino a tarda sera, un grazie a tutti perché senza di loro, senza questi non avremmo potuto farlo. Il campetto, il campetto è anche un ritornare bambini perché quando eravamo bambini noi appunto al centro storico, ma come fino a pochi giorni fa non c'era nulla, quindi questi giochini, queste cose, è un'idea che è nata pensando a cosa poteva servire al centro storico. Grazie. Grazie.